Che vuoto! Guarda, guarda, guarda il ragazzo là! Questo tutto qua, diciamo, del lago è di Sanza, che è la frazione di Sesto Calende. Questo lato qua del lago è una frazione di Sesto Calende, questa, è una frazione sul lago proprio. Abbiamo dei cantieri nautici, uno, due, dove ci sono due le barche, che si possono lasciare le barche lì o per far lavorare.